Le autorità libiche hanno deciso di sciogliere tutti i gruppi armati non riconosciuti. La decisione è stata presa dopo la ribellione a Benghazi. Gruppi di manifestanti filogovernativi hanno attaccato le sedi di varie milizie islamiche, anche quella di Ansar al-Sharia, sospettata di essere dietro l'attentato alla sede diplomatica USA. Le due maggiori milizie islamiche si sono ritirate da Derna, città nell'est della Libia, nota per essere una roccaforte degli integralisti, lasciando le loro cinque basi militari e annunciando di essersi sciolte. Le autorità hanno poi deciso di istituire un centro operativo a Benghazi, insieme all'esercito, alle forze del Ministero dell'Interno e alle brigate degli ex-ribelli, ora sotto il controllo del Ministero della Difesa. A far scoppiare il caso la sollevazione di questo fine settimana a Benghazi, dove una marea di persone ha letteralmente preso da sedio le sedi delle milizie armate, con l'intenzione di costringerli a chiudere i battenti.